Eccomi nonna, adesso ti chiedo che se vuole mangiare. Nonna che ti vuoi mangiare? Ah bello, guarda che t'ho insegnato io a cucinare, non salvo! Carciofi e patate in pastella, dai! Farina, farina di riso, acqua frizzante e birra! Mettiamoci lo cedo? No! Ma perché non ce lo vuoi mettere? Io ce lo metto sempre! Acqua proprio diversa da me. Mia nonna è una bravissima donna, purtroppo non sa cucinare. Beato te. Questa è la consistenza. Oh fammi vedere come capisce il carciofo. Troppo, troppo, troppo! Sta a tagliare troppe foglie. Bravo, questo l'ha capato bene. Togliamo la barba e lo facciamo a spicchi. Sbucciamo la patata direttamente nella pastella. Puri i carciofi dentro. Mischiamo bene bene. Meglio con le mani. Meglio sì. Intanto io faccio una maionesina spettacolare. Corsa di limone. Arieccolo. Buttarga. Ragazzi è proprio vero, chi c'ha nonna non piangere. Buone. Fatemi sapere nei commenti cosa volete vedere nella prossima ricetta. Grazie.